salve ben ritrovati al vigor show ritornato a buona settimana di sosta come una settimana di sosta c'è stata per il campionato di serie c gold la alley che viene appunto da una settimana ai box come tutto il resto del campionato dopo che però aveva in anellato una serie di cinque vittorie consecutive cinque vittorie consecutive che hanno consolidato il secondo posto in classifica nel girone appunto marchi umbria della serie c gold sempre alle spalle della capolista bramante che resta a più due ma che dovrà venire appunto fra qualche settimana a salire a casta raimondo si è creato invece un certo divario con le inseguitrici con osimo pisaurum e assisi e tutte le altre che sono ormai distanti dai sei punti in giù e con quattro partite da giocare ancora nella regular season può essere già di fatto una serie ipoteca su uno dei primi due posti una cosa molto importante perché comunque vorrebbe dire saltare il primo turno di playoff e andare direttamente ai quarti di finale ma comunque bisogna prima blindarlo questo una delle prime due posizioni in classifica noi intanto parliamo con il nostro primo ospite di questa settimana che è il playmaker bianco rosso michele bugionovo parliamo inizialmente appunto di questa sosta appunto arrivata in queste settimane la sosta del campionato è stata da un punto di vista un vantaggio perché ci ha permesso di recuperare energie fisiche e mentali che saranno poi determinanti per questo finale di stagione e in più ci ha permesso anche di lavorare su alcune situazioni tecniche e tattiche e dall'altro punto di vista però potrebbe essere stato uno svantaggio perché venivamo da cinque vittorie di seguito e quindi magari ci ha spezzato un po il ritmo e l'inerzia però dovremmo essere bravi noi comunque a ritrovare il ritmo partita giusto per le prossime partite la vigor torna in campo sabato alle ore 19 non al solito orario delle 18 quindi un'ora in avanti rispetto al solito contro foligno al palasport di casta raymondo partita insidiosa della quale appunto parliamo con michi bugionovo ci aspetta una gara molto difficile perché foligno una squadra molto forte soprattutto dopo l'inserimento dei due ragazzi stranieri hanno trovato la quadratura che poi gli ha permesso di vincere a pesaro contro il bramante e in casa contro osimo da parte nostra noi però dobbiamo fare di tutto per portare a casa i due punti perché vogliamo rimanere in scia del bramante che sta sopra di noi in classifica solo i due punti e poi anche per mantenere il distacco dalle dirette inseguitrici quindi cercheremo di preparare la partita in questa settimana nel migliore dei modi e faremo di tutto per vincere come sapete appunto la seconda fase o meglio il playoff per quanto riguarda la vigor vedranno incrociarsi le armi tra le squadre del girone marchio umbria con quelle del girone abruzzo con in palio una sola promozione appunto in serie b quindi è ora di iniziare a buttare un occhio a quello che succede nel girone abruzzese per farlo abbiamo chiesto la consulenza ad uno ad un giornalista che appunto il girone abruzzese lo frequenta lo frequenta da sempre parliamo del responsabile comunicazione del pescara basket nonché redattore del sito www roseto.com davide di sante gli abbiamo chiesto di farci appunto il quadro della situazione di quello che sta accadendo che è accaduto fino ad ora nel girone di cicol da bruzzese salve a tutti raccolgo l'invito del collega marco per fare il punto della situazione del girone abruzzese del campionato di sierci gold che nello scorso weekend ha visto chiudersi la fase regolare la prima fase nonostante ci siano a dei recuperi da fare in questa settimana ma comunque per arrivare a stabilire definitivamente la griglia di playoff e playout sarà disputata una fase d'orologio che prevede ulteriori quattro giornate che cominceranno nel weekend dal 26 al 27 marzo tutto sommato in questa prima parte di stagione i pronostici e le aspettative sono state rispettate al momento troviamo al primo posto una delle squadre candidate a disputare un campionato divertice come l'amatori pescara che può contare su un coach di provate esperienze ed è molto esperto di questi campionati come renato cassorina su una coppia di stranieri molto forte come l'esterno locurato sanzo cordis ed il lungo serbo milan dondur più l'altro esterno di categoria superiore antonio serroni che al momento ferma i box per infortunio l'ala tommaso picchi e il playmaker alberto di salvia tuttavia la società bianco rossa per fronteggiare una situazione infortuni che abbastanza preoccupante nell'ultima settimana che ha visto perdere il forte raicevic praticamente per tutta la stagione è intervenuta sul mercato ingaggiando l'ala ex bisceglie mazzarese e l'esterno che aveva cominciato la stagione all'aquila schiavoni l'amatori sta dominando in questo campionato fino a questo momento diverse lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici che sono un gruppetto molto agguerrite comunque molto qualitativo guidato dall'altra formazione di pescara sia la pescara basket di coach stefano vanoncini che dopo aver sfiorato la serie b l'anno scorso quest'anno si è ripresentata ai nasi di partenza confermando in blocco l'intero gruppo dell'anno scorso eccezione fatta per i due stranieri quindi da grosso capitanelli ai prodotti del settore giovanile mascio pinto fasciocco del sole pucci e compagnia che appunto nonostante la mancata presenza di giocatori stranieri e l'abbandono di carità a gennaio che ha il rinforzo estivo che realizzava 22 punti di media e lì è comunque dire alla sua in questo campionato troviamo anche isernia che in risalita in queste ultime settimane che può contare con un campo molto complicato da espugnare ed è guidata principalmente dall'esterno cinalli dal dei due stranieri zonkov e sarsnauskas dal playmaker compagnoni poi troviamo anche l'unibasket lanciano che era partita come ogni anno con una squadra molto giovane con l'obiettivo di disputare un campionato tranquillo che però coach di tommaso sta facendo un ottimo lavoro come l'anno scorso ed è lì anche essa nel gruppo delle inseguitrici dell'amatori ci troviamo anche l'altra formazione costruita per ben figurare in questo gruppo sia il vasto basket che presenta il capo cannoniere del torneo l'ala express carabasket e foligno sima straupis che però ultimamente un po rallentato la propria corsa condizionata pesantemente da alcuni infortuni tra cui il forte esterno argentino rupile di lungo mirone assenti nelle ultime settimane un po tardata la formazione teatina del magic basket chieti che presenta giocatori molto forti come il lituano dario sustonkus lungo spagnolo gonzalez perez rinforzata stagione in corso dal da franco migliori che però per via di qualche passo falso di troppo tra cui l'ultimo a termoli la scorsa domenica è un po attardata in classifica ed è incalzata dal nuovo basket aquilano che presenta una squadra molto giovane trascinata soprattutto dal lungo argentino secci quindi questa in estrema sintesi la situazione al momento del campionato del girono abruzzese del campionato di serie c gold in questa settimana saranno disputati tutti i recuperi per completare il quadro della situazione poi si partirà con la fase ad orologio vi ringrazio per l'attenzione arrivederci alle prossime puntate e lasciamo il la serie c gold per addentrarci nel resto del mondo del mondo vigor a partire dalla serie di la squadra di coach porcarelli venerdì scorso ha colto una vittoria fondamentale nella sua rincorsa verso la zona playoff che poi significherebbe anche salvezza passando sul parquet di civita nova per 44 56 una vittoria che riposta la vigor a meno due dall'ottavo posto quello che vale appunto l'accesso nei playoff e evitare soprattutto i play out vittoria veramente molto importante a quando mancano manca solo una giornata di regular season oltre poi alle 4 di di fase ad orologio grandi soddisfazioni anche a livello giovanile per la vigor nella scorsa settimana perché l'under 17 è chiuso al secondo posto nel suo girone quindi ha strappato la qualificazione per la fase finale quella che assegna il titolo regionale appunto di categoria a livello silver l'under 19 invece è chiuso al terzo posto nel suo girone e appunto si giocherà invece la coppa del centenario sfidando terze e quarte classificate degli altri gironi gironi delle marche mentre continuano ancora i campionati under 14 ed under 15 per tutti gli aggiornamenti ovviamente vi rimandiamo ai nostri canali social in primis per quanto riguarda le prime squadre di serie c e serie d ovviamente basta cliccare vigor basket matelica su facebook su instagram e su youtube per cercare tutti gli aggiornamenti appunto riguardanti le due squadre o su vigor basket matelica settore giovanile solo su facebook però per tutto quello che riguarda invece la galassia del settore giovanile bianco rosso noi siamo arrivati in coda anche a questa puntata del vigor show vi aspettiamo vi ricordiamo sabato per la partita a castellamondo contro foligno per il campionato di serie c gold alle ore 19 non vi sbagliate vi aspettiamo ciao ciao ciao